Secondo le linee guida nazionali in tema di interventi assistiti in reparti ospedalieri che consentono l'ingresso di animali nelle corsie, ieri nel reparto di pediatria dell'ospedale di Belluno hanno fatto il loro ingresso, grazie all'interessamento della sezione di visome castoi della BWS, dell'Apaca e dello Juventus Club Belluno, Dada e Tamu, due bellissimi esemplari di Curly Coated Retriever, accolti dai bambini, sia dei genti che delle scuole di Castione, dalle loro maestre, dal personale della pediatria, dal dottor Luigi Zanò, la direttore del servizio veterinario dell'Ulss 1 Dolomiti e l'assessora Valentina Tommasi. Scopo? Far conoscere la realtà della pediatria ai bambini delle scuole, regalando al contempo emozioni positive ai bambini ricoverati che hanno molto apprezzato questa iniziativa voluta con determinazione dal dottor Luigi Memo, primario del reparto, in virtù del valore profondo riconosciuto scientificamente dell'incontro tra chi è in difficoltà e l'animale, fatto che migliora la qualità della vita del degente e ne accelera, in taluni casi, la guarigione. Dopo una prima introduzione sull'importanza del rapporto uomo-cane, i bambini sono entrati nel vivo dell'attività con una prima fase di conoscenza a cui è seguita quella di avvicinamento per concludersi con il contatto vero e proprio con Dada e Tammu. A questo primo storico appuntamento in pediatria ne seguiranno altri prossimamente.